Io non ci sei venuto venire. Perché non ci sei venuto venire. Perché io non ci sei venuto venire. Perché io non ci sei venuto venire. Perché? Il telemedio è fermo. Non metti le camera proprio. Vai vedere che tatuaggio c'è. Vai vedere che tatuaggio c'è. C'è la circolata. Sì, no. Anche io. Come no? Va bene, va bene. La senti. Non ci facendo sempre.